Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alto Lazio. Furto la scorsa notte al poligono di tiro di San Gordiano. I ladri hanno portato via diverse pistole di vario calibro. Sentiamo il nostro servizio. Furto la scorsa notte al poligono del tiro di San Gordiano. I ladri si sono introdotti nella palazzina praticando un buco nel muro posteriore, prendendo di mira all'inizio il locale segreteria dove hanno gettato in terra tutti i documenti. Poi hanno praticato un'altra apertura per accedere al cavo dove sono ospitate le pistole di vario tipo che vengono utilizzate nelle esercitazioni di tiro. A quel punto è però scattato l'allarme collegato attraverso un ponte radio alla sala operativa della Securitas Metronotte. Immediato è stato l'arrivo di due pattuglie di vigilantes che, una proveniente da Civitavecchia e l'altra dello stesso quartiere di San Gordiano, hanno subito notato la luce accesa in segreteria ed avvisato il gestore del centro. Nel frattempo i ladri, avvertite le sirene, sono scappati con un bottino di armi dalla parte posteriore dello stabile, senza avere il tempo di arrivare al locale dove si trovavano i fucili e le carabine. Sul posto anche gli agenti del commissariato e della scientifica che stanno tuttora raccogliendo elementi per cercare di risalire agli autori del furto. E intanto continua il botta e risposta tra Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà dopo le recenti esternazioni da parte dei Democrat anche a livello provinciale contro SEL, rea di aver fatto cadere la giunta Tidei. Anche su questo abbiamo un servizio. Ristabilire la verità nel merito delle questioni. E' questo l'obiettivo che si pone Sinistra Ecologia e Libertà e per farlo iniziano dal porto. Gli unici provvedimenti che miravano a disciplinare corretti rapporti fra la città e l'autority sono state presentate da SEL. L'assessore Serpente ha proposto la delibera riguardante la tassa d'ingresso. I nostri consiglieri hanno presentato la mozione per la revisione delle tariffe dell'acqua che il comune cede a Port Utility. Entrambe le iniziative sono state interrotte, una volta tanto in maniera congiunta, per raggiungere un accordo complessivo con l'autorità portuale. E ancora, taxi ed NCC. Anche qui, hanno detto da SEL, il regolamento e il bando di gara per regolarizzare il settore sono iniziative di SEL e del suo assessore. Anche sull'interporto, inizialmente, c'è stato il coinvolgimento dell'assessore Serpente, fra l'altro vero esperto di portualità e traffici. Poi, stranamente, l'assessore è stato gradualmente stromesso e tutto ciò che si stava facendo sull'interporto era a noi oscuro. Per quanto riguarda poi l'AIA, SEL non usa mezzi termini. T-Day non ha mai condiviso l'idea di riaprire l'AIA. Il famoso documento sui cinque punti singlato da SEL e PD, nel quale c'era anche l'AIA, è servito a T-Day per farsi approvare l'accordo con i talcementi. Ma non c'era da parte sua nessuna intenzione di rispettarlo, proprio come ha fatto con la vicenda acqua. Una volta chiariti i vari punti presi in esame, i vendoliani auspicano che la prossima campagna elettorale venga condotta sui contenuti, in un clima di rinnovata pacificazione. Chi pesca nel torbido, adombrando inesistenti oscure trame, non fa altro che esasperare una pericolosa contrapposizione, e per questo deve assumersene le responsabilità. E come se i toni fra Democrat e vendoliani non fossero già abbastanza tesi, l'ex consigliere Stefano Giannini butta benzina sul fuoco, prendendo di mira l'autorità portuale, affermando come la sentenza del Consiglio di Stato dice che la dichiarazione del Ministero è palesemente smentita dalla legge 296 del 2006, secondo la quale le autorità portuali sono enti pubblici non economici e sono per questo assoggettati alla regolamentazione del Decreto Legislativo 165 del 2001 in materia di selezione e assunzione del personale. Intanto l'ex consigliere Mauro Guerrini continua a chiedere le primarie. Per scegliere il candidato sindaco occorre infatti indire le primarie, dichiara l'ex consigliere di maggioranza. Ne ha convinto infatti alla luce delle recenti dichiarazioni del neosegretario nazionale del partito, Matteo Renzi, intervenuto a Ballarò. In quell'occasione il sindaco di Firenze non ha esitato, ha sottolineato Guerrini, a definire le primarie aperte a tutti una grande festa della democrazia. Da noi invece sembra che occorrerà un lungo conclave del partito prima di giungere ad una conclusione. Da domani cambieranno gli orari dei treni sulla tratta Roma-Civita Vecchia. Con la modifica degli orari, le ferrovie dello Stato annunciano anche alcune novità, tra cui l'aggiunta di un nuovo treno in partenza alle 6.13 da Civita Vecchia. E luce fu a Corso Centocelle. Finalmente infatti le tanto desiderate luminarie e natalizie hanno fatto la loro apparizione, proprio come promesso da Enel, che ha finanziato l'impresa. In città, dopo giorni di incertezza sul destino delle luminarie e sui visi dei civita Vecchia si torna un piccolo sorriso di speranza. Nonostante la crisi, infatti, che forse frenerà un po' le famiglie degli acquisti pazzi, di Natale in città è arrivato e ora non si respira anche nell'aria, grazie anche a quelle lucine blu che nella notte illuminano le strade. Come comportarsi in caso di incendio o di terremoto? È proprio la risposta a questa domanda che i circa 40 volontari della protezione civile, non solo di Civita Vecchia e del Comprensorio, ma del Lazio e dell'Umbria, stanno apprendendo in questi giorni presso il centro polifunzionale a Fiumaretta. Da ieri mattina fino a questa sera, i volontari saranno impegnati sotto la guida dell'ex funzionario del Dipartimento Nazionale della Procib, Piero Moscardini, e del coordinatore dell'Unità di Crisi, Valentino Rillo, in esercitazione che li aiuteranno ad affrontare nel migliore dei modi le emergenze. L'uomo oltre il pittore, questo è il nome della mostra inaugurata, questo pomeriggio all'ex chiesetta San Giovanni di Dio è resa possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civita Vecchia. Sentiamo le nostre interviste. Presidente, una mostra sicuramente significativa, anche considerando l'importanza sociale rivestita da Vallarino, docente di quasi tutta la città. Tiene molto alla ricerca dei personaggi importanti che hanno fatto di Civita Vecchia, poi il centro che oggi è. Parliamo generalmente dell'Ottocento, del Novecento, oggi parliamo di una persona, di una figura che ha tratteggiato poi il dopoguerra Civita Vecchiese con la sua arte. Tutti noi abbiamo avuto Vallarino o come insegnante di disegno o comunque abbiamo potuto ammirare le sue opere ed è stato un personaggio che sicuramente ha lasciato la sua impronta. Quindi quando la figlia e i figli ci hanno chiesto la possibilità di allestire una mostra, noi sicuramente siamo stati ben lieti di accontentarli, sperando che poi questa mostra abbia, come dico sempre io, sempre più conoscenza anche da parte dei giovani, perché ripeto, queste sono persone che hanno fatto grande Civita Vecchia. Quindi è importante che abbiano la loro nicchia, che vengano conosciuti e che la loro arte venga apprezzata sempre di più. Una mostra non soltanto di quadri ma anche di oggetti raccolti negli anni. Sì, questa è una mostra che abbiamo voluto dedicare al nostro padre che è scomparso un anno fa, che era prima di tutto un bravissimo pittore, insegnante di educazione artistica, ma era anche un appassionato dell'arte in tutti i sensi, per cui lui gli oggetti li trovava, li elaborava, li scolpiva, li costruiva come ha fatto per i suoi alunni con delle piccole casette per la storia della vita dell'uomo. E poi però era anche una persona che aveva molti interessi, collezionava conchiglie, amava molto cucinare, quindi sperimentava ricette e soprattutto anche scriveva articoli e scriveva delle piacevoli poesie, sonetti romanesco. Ecco, una persona tra l'altro molto conosciuta in città. Diciamo che per anni ha animato la vita culturale e artistica della città. È stata nostra intenzione anche questa mostra, non solo per ricordarlo, ma anche perché lui è uscito di scena un po' troppo presto, per una serie di problemi di salute personali. Lui che era così attivo anche proprio sulla scena cittadina, perché ha avuto anche per anni a diretto una galleria d'arte, il Fante di Quadri. Ci piaceva farlo ricordare però anche non solo come è sempre stato conosciuto, cioè il professore e il pittore, ma anche per tutta quell'altra parte, sempre creativa e umana che lui comunque metteva e riversava anche nelle sue opere poi. La condotta Slow Food dei Monti della Tolfa e di Civitavecchia ha finalmente organizzato il primo mercato della terra. Si tratta di mercati contadini, creati secondo le linee guida dettate dalla filosofia Slow Food. Mercati gestiti collettivamente, luoghi di incontro dove i produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori a prezzi giusti, garantiscono metodi di produzione sostenibili per l'ambiente, preservando inoltre la cultura alimentare. Il mercato si troverà dal 20 al 22 dicembre all'interno di un contesto più ampio e voluto dal Comune e dall'Università Agraria di Tolfa. Bene, adesso lasciamo spazio alla pubblicità e ci vediamo subito dopo con l'ampia pagina comprensoriale.